La crisi economica è drammatica, la fatica di fare informazione territoriale, informazione anche sui canali dei social network, è una grande fatica, è un grande impegno, però è anche uno dei mestieri più affascinanti. Raccontare, fare inchiesta, scoprire cosa c'è dietro le parole, è un lavoro che io amo molto, per questo i miei auguri sono sinceri, è che l'altra voce racconti non soltanto il male, racconti anche il bene, sia capace di darci gli strumenti per interpretare il male e sia capace di mettere in vetrina anche il bene, perché bisogna incoraggiare le cose buone e bisogna esorcizzare le cose cattive. Tanti, tanti auguri all'altra voce. Grazie a tutti.